Mary Jane AFM Ciao Ehi Come state? Io spero tutto 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 molto bene I capelli mi vanno sempre dappertutto Ok, dovrebbe andare belli Ciao conciolotti miei Grazie ancora una volta per essere ritornati sul mio canale A guardare i miei contenuti rilassanti Oggi è un video molto semplice Video trigger Visual trigger Che spero Vi Rilassi Oggi Oggi voglio presentarvi L'Uma Bruco Che porta nelle mie live su TikTok E un altro piccolo esserino Che ha un suono pazzesco Non le ho dato ancora Non le ho dato ancora uno Poi Intanto Mettetevi comodi Indossate Le auricolari Iscrivetevi Iscrivetevi al canale Adesso Andiamo a vedere Andiamo a vedere L'Uma Bruco Che suoni farà Eccola qui Eccola qui Divina Divina Oh divino L'Uma Bruco Divino Il visual trigger E' anche bellissimo E' anche bellissimo Questo gioco di colori Arcopaleno Arcopaleno E' anche bellissimo Che da Dell'Uma Bruco Che da Che da E' anche bellissimo E' anche bellissimo Ed E' anche Iniziamo prova a seguirlo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti è fantastico il tocco di un oggetto fa tipo una sorta di tracing grazie a tutti 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 ricorda questo suono le nacre grazie a tutti di palline vorrei dire una cavolate grazie a tutti 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 oggi ho voluto rilassarvi in questa maniera spero che il tutto vi abbia rilassato e vi sia piaciuto noi ci rivediamo al prossimo video ciao piccoli